Ciao Pino, ho visto tempo fa a Buona Domenica che alcuni giovani parlavano dei loro idoli e la vita, citando gente come Luca del Grande Fratello e Laura Pausini, dove andremo a finire? E' vero, è triste, veramente triste ragazzi, veramente triste, io certe volte, perché per il solito discorso che voglio vedere cosa succede, provo a guardare quella roba della Perego lì, che c'è tutta quella gente dietro del Grande Fratello, una tristezza ragazzi, ma una tristezza, quando vedi la De Filippi con tutti quei tronisti, quella roba lì, ma cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Ma non si vergogna sta gente, non ha un minimo di pudore, di dignità, questo non ha niente nell'anima, nel cuore, non hanno niente nel cervello, non hanno niente proprio, comunque sta a noi mandarli a fare in culo questa gente, sta a noi, svegliatevi, vai gente!